Buongiorno, spero e immagino che siete tutti blindati come sono anch'io, obbedendo a queste norme, in questa occasione di questa orribile situazione, anche la casa del jazz è chiusa, blindata, però il jazz no, il jazz non è blindato, il jazz continua a darci delle belle sensazioni, per cui io vi suggerirei di ascoltare un disco che io ho riscoperto un paio di giorni fa, che è This Gillespie Portrait of Duke Ellington, è un disco molto molto bello, ma soprattutto c'è un Gillespie a dei livelli stratosferici, infatti io penso che Gillespie sia un marziano, che suonava a un livello tale che mai nessuno ha suonato così, né mai nessuno ci arriverà. E poi volevo anche darvi una frase su cui meditare, che è mutuata da una frase di Marguerite Duras, e la frase è suonare e cercare di suonare quello che si suonerebbe se si suonasse. Ok ragazzi, a presto spero, a prestissimo.